Musica Cordiale saluto gentili telespettatrici e gentili telespettatori, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Qui Regione. In apertura, nel corso dell'ultima seduta di Consiglio del mese di settembre, l'Assemblea ha approvato il bilancio consolidato 2023, ovvero sia i risultati economici assommati di enti e società in aus della Regione Toscana. Il bilancio consolidato è un documento contabile che descrive la situazione economica e finanziaria di un insieme di imprese. Permette quindi di valutare i risultati economici assommati ed è più complesso rispetto a un bilancio ordinario, avendo anche un valore legale. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con 19 voti favorevoli, PD e Italia Viva, e 11 contrari, quelli di Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle, il bilancio consolidato per l'anno 2023. I soggetti che fanno parte del cosiddetto perimetro del consolidamento, il GAP, il gruppo di amministrazione pubblica, sono così suddivisi. 25 enti strumentali controllati e le loro società partecipate indirette, 9 enti strumentali partecipati, con 9 società controllate più alcune partecipate indirette, e infine 4 società partecipate. In totale circa 50 imprese, di cui in conferenza stampa ha parlato il consigliere del PD, Andrea Pieroni. Il bilancio consolidato è uno strumento utile che ci consente di esaminare il bilancio della regione toscana, dell'ente regione e del Consiglio regionale, in un ambito più ampio, che comprende una galassia di enti strumentali, di società partecipate e controllate. Il consolidato però si limita a esaminare le posizioni dei 21 soggetti, siano essi enti o società, che rientrano a termini di legge nel perimetro del consolidamento. Questi dati cosa ci dicono? Ci dicono che intanto c'è un valore della produzione, come si dice in termini economici, cioè delle attività che sfiora i 12 miliardi. Di questi, oltre l'80% fanno capo all'ente regione. Il risultato economico della gestione 2023 ci consegna un dato positivo per circa 90 milioni di euro, che sono in netto miglioramento rispetto al consolidato del 2022. C'è un aumento di 60 milioni di euro che vanno a beneficio della situazione patrimoniare. I conti avrebbero potuto essere ancora più migliori qualora avessimo potuto beneficiare di risorse come il payback in materia sanitaria, 392 milioni rispetto al quale la Corte Costituzionale ha dato ragione alla Regione Toscana appunto nel diritto di esigere queste risorse, oltre a circa 120-130 milioni di minori trasferimenti dal Fondo Sanitario regionale. Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia ha sottolineato come il tema vero sia l'utilità del bilancio consolidato, che dovrebbe consentire una disamina ancora più approfondita e articolata rispetto a quanto è stato fatto. Considerando anche la lettera del Presidente Gianni, dove si evidenziava che la mancata approvazione entro il 30 settembre avrebbe di fatto bloccato tutte le assunzioni dell'ente. Sì, il bilancio consolidato della Regione conferma i numeri in chiaro scuro. Ci sono circa 2 miliardi e 80 milioni di indebitamento complessivo, c'è un patrimonio netto di meno 700 milioni. Termini Montecatini SPA, la società che ha il 70% di quote da parte della Regione Toscana, che esce dal gruppo amministrazione pubblica e quindi dal bilancio consolidato, perché sappiamo essere in concordato presso il Tribunale di Pistoria. È quindi una situazione complessa, in alcuni casi mancano società o fondazioni di rilievo, come per esempio il Maggio Musicale Fiorentino, che ha una produzione complessiva e sfiora 100 milioni di euro, mentre si mettono per legge alcune società o enti o fondazioni che hanno un valore molto più basso. Per quanto riguarda i dati negativi, colpisce il dato negativo di sviluppo Toscana, che fa un utile negativo, scusate una perdita, di circa 280 mila euro, e naturalmente nel complesso si tratta di un'organizzazione enorme che dà servizi che per noi giudichiamo assolutamente insufficienti. Passando ai numeri, il valore della produzione ammonta a quasi 12 miliardi in aumento rispetto all'anno precedente, con un utile di 63 milioni e 864 mila euro. A eccezione di sviluppo Toscana, tutti gli enti e le società hanno realizzato un risultato di esercizio positivo. Un voto positivo da parte di Italia Viva, convinto, un bilancio che chiude in equilibrio. È importante tenere in sicurezza i conti della Regione Toscana, denota solidità della Regione, ma anche del gruppo della Regione, di tutte le aziende che fanno e afferiscono alla Regione Toscana. È evidente che questo dimostra la nostra tesi, come nel 2023 siamo stati in equilibrio, noi siamo convinti che questo equilibrio lo si possa raggiungere anche nel 2024. Questo spiega la battaglia che Italia Viva ha fatto contro l'aumento delle tasse e la battaglia che faremo nei prossimi tre mesi per rivedere quella misura, per cercare di tenere in equilibrio i conti, anche nel 2024, in equilibrio di bilancio, senza chiedere nessun sacrificio ai cittadini toscani, riducendo le tasse e soprattutto portando avanti l'avvertenza da parte della Regione Toscana nei confronti del payback per riottenere un credito dovuto. Annuncio di voto negativo invece da parte di Massimiliano Riccardo Baldini, della Lega, e Andrea Ulmi, del gruppo misto. Sì, sul bilancio consolidato, in primo luogo abbiamo evidenziato una serie di elementi di approccio formali, cioè in primo luogo il fatto che abbiamo discusso un atto così importante nella totale assenza della Giunta e del Presidente, quindi quelli che sono i conti della Regione, quindi un momento fondamentale di verifica dei quattrini dei toscani e di come vengano utilizzati, totale assenza di Giunta e di Presidente della Regione. Così come l'avevamo già messo in evidenza anche durante la Commissione Controllo, l'atto dei revisori dei conti, il parere, arriva costantemente in grande ritardo ed è un atto spesso di natura poco più che formale. E anche questo non è utile all'approfondimento, perché avremmo invece avuto la possibilità, con una tempistica diversa, di chiamare e ascoltare i revisori, approfondire meglio determinati aspetti e portarli in aula per favorire un confronto più ampio. Detto questo, noi abbiamo rilevato anche come nell'arco del bilancio consolidato molti dei numeri che riguardano le società partecipate sono e arrivano in grande ritardo. Si riferiscono addirittura agli anni del 2022, c'è addirittura uno di questi enti che è in liquidazione e che ha i numeri fermi al 2015. Vi immaginate voi che tipo di ragionamento si possa fare dal punto di vista della precisione dei numeri? Il bilancio consolidato è un buon esercizio ragionieristico. Tra l'altro negli allegati si parla anche di una relazione dei revisori dei conti che noi non siamo riusciti a trovare. Ovviamente nel nostro ruolo di opposizione non possiamo che mettere in evidenza le parti meno chiare e comunque ci sono alcuni punti oscuri che andranno approfonditi. le termini di Montecatini che hanno un disavanzo perenne e profondo, certe situazioni di alcune partecipate che sono quasi inutili che la regione mantenga. E infine tutto questo è depurato, ma per legge naturalmente, di tutto il problema sanitario che rimane un grosso buco nero da chiarire e da cercare di portare a compimento nel miglior modo possibile. Restiamo in tema perché l'Aula del Consiglio ha dato il via libera a maggioranza al bilancio di esercizio 2023 dell'ARPAT, l'Agenzia per la Protezione Ambientale della Toscana. Approvato dal Consiglio regionale il bilancio di ARPAT. Come ha spiegato la Presidente della Commissione Territorio e Ambiente, Lucia De Robertis del PD, illustrando l'atto all'Aula, ARPAT registra un valore della produzione di 53 milioni e 276 mila euro, tra le voci principali da segnalare i contributi della regione stessa per il funzionamento che si attestano ad oltre 48 milioni di euro. Negativo il dato dell'utile di gestione, diminuito del 73% rispetto all'anno precedente. Sul fronte occupazionale i dipendenti risultano essere adesso 631 a fronte dei 628 dell'anno scorso. E qui De Robertis ha sottolineato come nel corso dell'ultimo anno ARPAT abbia avviato un significativo turnover. Sono state infatti assunte 38 nuove unità a fronte di 37 cessazioni di rapporto. Massimiliano Baldini della Lega nel suo intervento ha sottolineato l'aumento delle ispezioni e dei monitoraggi effettuati da ARPAT, soprattutto quelli senza sopralluogo. Nel bilancio di ARPAT noi intanto abbiamo riscontrato i soliti limiti riguardanti intanto l'aspetto dei sopralluoghi che per quanto riguarda quelli che sono sopralluoghi con presenza sul territorio sono come dire limitati e hanno un incremento davvero limitato mentre invece è diverso per quanto riguarda i sopralluoghi a distanza. E questo per noi è negativo perché il senso di ARPAT è proprio quello invece della verifica diretta. La stessa cosa riguarda poi il personale che continua ad essere un personale con un'età avanzata e che quindi limita questo aspetto che ho detto in precedenza. Ma poi soprattutto, e questo lo volevo segnalare, noi abbiamo svolto un lavoro di comparazione con le omologhe di ARPAT sia del Veneto che del Piemonte che sono risultate oggettivamente migliori sotto il profilo dei numeri, sotto il profilo del personale, sotto il profilo ovviamente anche di quelle che sono gli interventi diretti sul territorio. E mi ha fatto piacere avere riscontro da parte dei rappresentanti di ARPAT durante la commissione che hanno riconosciuto non solo che quello che stavo dicendo è corretto ma che Veneto e Piemonte sono un punto di riferimento per la stessa ARPAT toscana e guardano a quelle agenzie come un punto di riferimento per ottenere risultati migliorativi. L'Aula ha infine approvato all'unanimità un ordine del giorno che vede il consigliere di Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi come primo firmatario a cui si sono aggiunte le firme di Lucia De Robertis, del capogruppo del PD Vincenzo Ceccarelli e del consigliere DEM Andrea Bannucci. L'ordine del giorno impegna la giunta a riassegnare 850 mila euro che residuavano da un precedente accantonamento per interventi autorizzativi di stazioni 5G su cui successivamente ARPAT dovrà riferire al consiglio allargando il report anche all'andamento delle installazioni 5G sul territorio. Noi abbiamo votato contro il bilancio di ARPAT pur riconoscendo il miglioramento di alcuni parametri come per esempio l'effettuazione di tutti i controlli previsti per le autorizzazioni integrate e ambientali però rispetto ad altre ARPAT regionali ancora c'è da migliorare molto per esempio per le verifiche e i sopralluoghi. Abbiamo oltretutto presentato un ordine del giorno sottoscritto anche poi dai colleghi del PD che chiede alla giunta di rilasciare all'agenzia anche gli oltre 800 mila euro dell'utile per tre progetti specifici fra cui anche l'effettuazione delle autorizzazioni e dei controlli sulle antenne per il 5G perché la recente modifica normativa regionale ha in qualche modo velocizzato i procedimenti di rilascio ma ha aggravato naturalmente il lavoro di ARPAT. In questo senso quindi riteniamo opportuno finanziare questo servizio ma naturalmente deve andare a vantaggio dei cittadini e dei comitati che in queste settimane ci hanno scritto chiedendo a gran voce di verificare l'impatto di queste tante antenne sul territorio anche dal punto di vista dell'inquinamento elettromagnetico. Noi abbiamo ritenuto opportuno sollecitare la giunta su questo. Cambiamo adesso argomento. Il seminario nazionale organizzato a Firenze dal Corecom della Toscana insieme ad Agicom ha visto la partecipazione di una decina di Corecom dalle altre regioni d'Italia ed è emersa l'esigenza condivisa di una nuova alfabetizzazione digitale per gli utenti. Oltre mezzo milione di euro restituito ai cittadini e alle imprese toscane soltanto nel 2023 grazie al lavoro di Corecom Toscana tramite l'attività di conciliazione nelle controversie telefoniche. Questo a fronte di quasi 5.000 istanze ricevute, l'80% delle quali giunte a conciliazione. Proprio da questi dati e dal successo dello strumento digitale gratuito ConciliaWeb è iniziato un seminario nazionale sul tema organizzato dal Corecom della Toscana con l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Una giornata di lavoro e di approfondimento che ha visto la partecipazione dei Corecom di 11 regioni italiane e soprattutto all'intervento del presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo che ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto dai Corecom nella conciliazione dove il digitale svolge un servizio fondamentale perché accorcia le distanze e i tempi connettendo sempre più cittadini e istituzioni. Oggi è una giornata importante perché poi alla fine in queste iniziative servono per dare risposte alle cittadine e ai cittadini perché da un lato è giusta la competizione che c'è tra gli operatori dall'altra però deve essere garantito al cittadino di poter accedere ai migliori servizi al prezzo più corretto e la competizione porta proprio a questo e questa iniziativa serve a costruire maggiore sensibilità tra i cittadini nel conoscere che esiste un luogo, il Corecom, in cui le controversie quelle telefoniche specialmente possono essere gestite possono essere valutate e può essere data risposta evitando un contenzioso di tipo legale questa è la riflessione che stiamo portando avanti sono contento che venga svolta qui in Toscana ringrazio Agicom, ringrazio i Corecom di tutta Italia perché questo è un lavoro che viene svolto a favore delle cittadine e dei cittadini ma per rendere il servizio ancora più accessibile e alla portata di tutti sarà fondamentale un'attività di ulteriore alfabetizzazione digitale così da ridurre quel gap generazionale che rischia di creare nuovi divari e soprattutto tagliare fuori le persone più anziane, più fragili come chi non ha uno smartphone, lo speed o una mail un'esigenza condivisa dal presidente del Corecom Toscana Marco Meacci secondo noi è un tema sicuramente di grande rilevanza quello di far conoscere ulteriormente i servizi del Corecom e in questo specifico tutto il tema delle conciliazioni noi anche nel 2023 abbiamo ricevuto oltre 4.900 istanze gran parte di queste poi, oltre l'80% giunge a un accordo in fase di conciliazione e restituiamo attraverso questa opera a titolo gratuito oltre mezzo milione di euro nei confronti di cittadini e imprese che appunto hanno degli indennizi rispetto a queste controversie telefoniche c'è un tema generale di alfabetizzazione digitale su questa tematica perché si accede attraverso la piattaforma del concilia web per cui c'è questo tema generale di formazione che anche la Toscana deve in qualche modo vedere sempre crescere, favorire e poi c'è un tema anche di stare attenti a chi si spaccia per il Corecom ed esistono dei casi noi invitiamo appunto ad agire attraverso tutti i canali ufficiali i canali istituzionali sia del concilia web, sia del numero verde sia del sito in modo da non avere fraintendimenti e tentativi di truffa Sulla stessa lunghezza d'onda di Meaci infine i relatori del seminario Nicola Sanzalone, vice segretario dell'autorità per le garanzie e nelle comunicazioni ed Enrico Maria Cotugno, dirigente di Agicom L'autorità coordina a livello nazionale i vari coricom e il risultato è che oggi, possiamo dirlo dopo un'esperienza quasi ventennale le situazioni di conflitto sono per la maggior parte risolte attraverso delle conciliazioni l'utente non va in giudizio, risparmia dei soldi e del tempo e contemporaneamente l'operatore provvede a ripristinare i servizi che sono stati malfunzionanti attraverso un sistema di indennizi questa è una best practice, come si dice con termini molto in voga che però è vera, è stato il primo tentativo da vent'anni in Italia esiste che consente di superare le angosce di andare in giudizio anche per piccole somme o per questioni della vita quotidiana è talmente valido il sistema che si chiama concilia web e che fin dal 2018 consente di farlo online che tra virgolette è stato gratuitamente ceduto anche ad altre autorità quella dei trasporti che ha sede a Torino e che fa le controverse con il medesimo sistema per cui diciamo è una pratica vincente e ricordiamolo assolutamente non onerosa per gli utenti cosa che insomma va sempre adeguatamente ponderata la digitalizzazione è sicuramente un'opportunità per tutti ma giustamente bisogna tener conto anche di chi non ha questo livello sia per motivi generazionali sia per motivi culturali questo livello di alfabetizzazione digitale ecco perché l'Agicom anche attraverso i Corecom svolge un'intensa attività da questo punto di vista oggi parliamo di concilia web una piattaforma digitale attraverso la quale i consumatori possono risolvere le proprie controversie e uno dei temi che abbiamo affrontato oggi è proprio quello di non lasciare indietro nessuno quindi l'importanza di fare in modo che le tecnologie da un lato aiutino gli utenti a risolvere i propri problemi ma dall'altro consentano anche a chi non ha la possibilità in un accesso digitale di risolvere ugualmente le proprie problematiche in chiusura le associazioni culturali della Toscana e l'importanza della memoria studi, ricerche, editoria, fonti storiche sono i migliori investimenti sul futuro e ciò che è emerso da un convegno che si è svolto a Firenze che ha visto protagonista la Presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale Cristina Giacchi Le associazioni culturali hanno oggi diverse difficoltà prima fra tutte la necessità di coinvolgere nuovi giovani volontari e le istituzioni hanno il compito di assecondare queste attività nello spirito della sussidiarietà che ispira la Carta Costituzionale e poi di creare le condizioni per rendere il lavoro dei volontari possibile e fruttuoso Con queste parole Cristina Giacchi ha salutato all'avvio dei lavori del convegno la memoria delle associazioni culturali come investimento per il futuro studi, ricerche, editoria e fonti storiche organizzato a Firenze nell'auditorium Giovanni Spadolini di Palazzo del Pegaso Il Centro per le Associazioni Culturali Fiorentine quest'anno ha festeggiato il decennale del suo festival con un mese di eventi, di iniziative che hanno vitalizzato anche luoghi insoliti della città ma non solo della città, anche dell'area vasta e del territorio regionale per questo siamo qui al Consiglio regionale e oggi ospitiamo la riflessione su questo lavoro delle associazioni culturali hanno diverse difficoltà, prima fra tutte la necessità di coinvolgere nuovi volontari è chiaro che è necessario appassionare tanti giovani cittadini e cittadini al lavoro nelle associazioni culturali e questo è l'interrogativo che li porta oggi a riflettere per un'intera giornata qui presso il nostro auditorium al Consiglio Le istituzioni hanno il compito di rendere possibile il lavoro delle associazioni nello spirito della sussidiarietà che ispira la nostra carta costituzionale e di creare appunto quelle condizioni che rendano il lavoro dei volontari possibile, fruttuoso e godibile per i nostri cittadini e cittadine L'iniziativa si inseriva nel programma del Festival delle associazioni culturali fiorentine che si celebra nel mese di settembre ed è giunto quest'anno alla decima edizione con un calendario ricco di appuntamenti che ha coinvolto anche il Consiglio regionale della Toscana E questo era il nostro ultimo servizio grazie per la cortesa attenzione che come sempre ci avete riservata a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di visione con i programmi di TV9 Grazie a tutti Grazie a tutti